Vero che mi volete bene? Non tu, non tu, tu non mi vuoi bene. Aia, quanto menate! Porca troia, quanto fa male! Oh cazzo! Gino, ma dovevi dirmelo che sono così bastardi i tuoi amici? Ma allora... Hola e bentornati a Minecraft One Chunk, la serie in cui cerchiamo di sopravvivere in un singolo chunk di Minecraft, che poi, serie, questo è letteralmente il secondo video, e se vi siete persi il primo, mi raccomando, recuperatevelo. Fatto sta che oggi abbiamo un obiettivo ben preciso, andare nel Nether. Nella speranza che ci sia qualcosa di interessante nel mio chunk, oltre a Nether racchelava. Prima di cominciare, però, vi ricordo che tutti i giorni, tranne la domenica, potete trovarmi in live sul mio canale Twitch. Diamo il bentornato alla nostra magica casetta. Magica non è affatto, perché è letteralmente un cubo di cobblestone, ma tant'è... Oh, aspetta, aspetta, pesce! Dove sei, bastardo! Eri qua vicino poco fa! Aspetta, però se faccio così, magari di sale la corrente viene da me. Potrei aver appena smurfato tutto quanto Minecraft? Risali la corrente! No, si sono allontanati i bastardi. Eh, vabbè, come non detto. Comunque, ciao! Bentornati su Minecraft! Come potete notare, ho fatto qualche leggero cambiamento, cioè ho terraformato un attimino per avere un pochettino più di spazio qua attorno, ho risistemato gli alberi che stanno ricrescendo, ho allargato il campo di grano che tuttavia sta crescendo con una lentezza incredibile, e ho ucciso gli zombie. Perché ho ucciso gli zombie? Perché facevano un casino che metà bastava. Credetemi, al prossimo che sento probabilmente quitto il gioco, i maiali bastardi stanno ancora laggiù e non osano avvicinarsi, e quindi stiamo messi non male, peggio! Ma guarda tutti sti pesci che mi guardano con aria di sfida, tipo, ah ah, te l'abbiamo fatta, brutto bastardo! Come detto, oggi l'obiettivo è andare nel nether, quindi, di cosa abbiamo bisogno per andare nel nether? Punto primo, abbiamo del ferro, ok, abbiamo già un piccone in ferro, quindi va bene. Abbiamo anche dell'oro che è perfetto, perché mi sa che mi ci farò i piedini con suddetto oro. Ci manca soltanto una cosa, l'ossidiana, e per fare l'ossidiana ci vuole la lava. Abbiamo della lava? L'unica cosa che mi resta da fare è tornare in basso e sperare bene. L'unica cosa che mi resta da fare, probabilmente a questo punto, smurfarla di cattiveria e scavare a livello 11 tutto quanto uno strato alto 2. Zombie! Cioè, il zombie, ah? Non è vero, non dirmi che è qua. Sicuramente è qua dietro, ma non lo potrò mai raggiungere. La mia vita fa schifo. Sono pronto a scommettere tutto quello che volete sul fatto che, in realtà, le caverne circondano il mio chunk, ma non lo sfiorano neanche lontanamente. Uh, altro ferro, questo è positivo. L'oro e il diamante, che sono forse due materiali che mi servono di più in questo momento, mi fanno schifo? Eh, ovviamente mi si rompe il piccone, no? È che io sono al bordo del chunk e non mi posso muovere, ma tu stai qua dietro. Ti sento? Ma sei fuori da... Ma... Stronzo! Vabbè, va, lasciamo perdere. Ma quindi mi stai dicendo che non c'è manco un diamante? Cioè, sono nell'unico chunk di Minecraft in cui non esistono i diamanti? Sei serio? Stai scherzi? Manca un diamante, c'è! Vabbè, ma sono cursato. Però che fastidio usare la parola cursato, non lo farò mai più, scusatemi. Ah, yes, good old strip mining. Aspetta, ma se io non c'ho la lava, che cazzo di ossidiana... Cosa sto facendo? Fearless Raptor, professional youtuber. Yeeey, altro ferro. Beh, in realtà non è male, perché posso farmi full armor e posso anche fare il cacchio di Flint and Steel. E niente, non esistono neanche i diamanti. Io non so più che cazzo fare. Fermi, ma in Minecraft 1.17 non c'era tipo quel modo stupido per trovare i diamanti a seconda di dove troviamo l'apis? Il fatto è che l'apis io l'ho già rotto. E quindi... Cioè, mi sono anche bruciato l'unica possibilità di trovare dei diamanti, io. Cazzo di genio. Comunque c'è una caverna qua accanto a me. Senza lava, eh. Ma c'è una caverna. Vabbè, iniziamo a rompere anche queste cose qua. Qua almeno danno un pochettino di exp. Io più che questo non posso fare, ma la vera domanda è se non dovessi trovare lava in alcun modo. Cioè, nel senso, io come ci vado nel Nether? Esattamente, c'è una caverna alla mia destra, porca troia. Oh! Puggers! Alleluia. Alleluia. Madonna, quanti? Tra l'altro, fun fact, manco nel mio chunk. Erano in quello accanto, perché tecnicamente... Sì, è il chunk accanto al mio. Smasciate like e iscrivetevi al canale per questi diamanti appena trovati. No, comunque seriamente, avessi aggiunto il bordo non avrei mai potuto prendere quegli stupidi diamanti. Ok, non c'era nient'altro, quindi scaviamo via tutto il ferro che troviamo in giro, lo portiamo su, e poi, boh, torniamo giù a cercare gli effettivi diamanti di questo chunk. Cioè, credo che a livello di algoritmo li si dovrebbe trovare, giusto? Poi algoritmo, come cazzo si chiama? Meccanica di generazione del terreno minecraftiano, dai, abbiamo capito. E vai, il ferro ha finito di cuocere, e sinceramente, al di là di un pezzo, che lo voglio tenere da parte per il flintensteel, gli altri mi possono tornare tutti utili, vero? Ma il piccone ora un po' da stronzo me lo farei in diamante. Almeno dura un bel po' e non ho bisogno di rifarmelo ogni due secondi. Uh, guarda il grano che sta crescendo, ma che godudia. Ma uh! Guardate, sono uscito dal chunk. Guarda qua, tre panini riesco a farmi addirittura. Eh, madonna. Che lusso, cazzo. E otteniamoli da parte per il nether poi, che per ora non ho la minima voglia di mangiarli. Sì, finisco di tirare su tutto quanto il materiale che ho lasciato in giro, cioè carbone, redstone e tutto. Carbone e redstone. Ah, io stavo controllando qua, giusto? Eccoli qua i bastardi del mio chunk. Quanto in basso? Siamo ad altezza 6, ma porca puttana. Avrei dovuto scavare in basso di letteralmente altri due blocchi, cioè qua su c'è la strada. È certo, no? Preso tutto? E torniamocene su? Qua non c'è più altro da raccogliere. Ho preso davvero tutto il prendibile. Ho bisogno di gravel. Ditemi che non c'è manco la gravel che mi incazzo. E qua c'è uno zombie. Porca troia, ecco la cave. C'è qualcosa di interessante qua dentro? Ma letteralmente vuoi dirmi che la caverna passa un blocco da me? F3 più G. Cioè, è letteralmente un blocco... Wait. Per tutto questo tempo ho fatto... Oh, cazzo. Sono stato fuori dal chunk per tutto questo tempo con la scalinata. Quindi tutti i diamanti che ho trovato non li avrei dovuti trovare tecnicamente. Ho fatto degli errori di sbaglio nel calcolo. Minecraft ma in un solo chunk più due linee di blocchi. Qua sapete una cosa? Io lascerei aperto così da dare la possibilità ai mob di arrivare che... Oh, nel caso io ho qualche scheletro o qualche zombo in più lo ammazzo volentieri. Comunque volevo chiedere umilmente veni a tutti quanti. Ho rovinato la serie uscendo dal mio chunk di competenza. Eila! Amico! Come stas? Minchia, abbiamo addirittura 11 diamanti più di 3 che abbiamo ottenuto in precedenza. Giusto il tempo di farmi un paio di chest? Ma sapete che davvero non ho incrociato della ghiaia ancora? Ma stai scherzando? Ma in che mondo non c'è ghiaia? Eh, in questo mondo non c'è ghiaia. Vabbè, mi toccherà scavare in giro e sperare di beccarla. Posso cioppare giù un sacco di legno e con questo legno farci delle scale in modo tale da fare una sorta di drop dritto al centro di questo chunk dall'inizio della caverna fino al punto più basso possibile. Dopodiché, boh, non posso fare altro che sperare di trovare della gravel. E se non c'è la gravel dovremmo fare la stessa identica cosa che avremmo fatto per ottenere l'ossidiana. Tra l'altro mi è appena venuta in mente una cosa abbastanza geniale per quello che concerne la crescita di tutto. Composter, ecco di qua. Minchia, che goduria. Geniale, cazzo, geniale. Così tra quello e le foglie, le foglie. Fermo. Il fatto è che anche il ferro non è infinito dovrei evitare di fare tutto sto casino. Tanto il cibo cresce e recresce quindi non è che abbiamo molta fetta. Diciamo che forse questa è la prima e unica volta in cui mi conviene andare a utilizzare delle cesoie per le foglie. Sì, in effetti forse con le foglie ci mettiamo un po' di meno ma proprio un po'. Ho finito tutto quello che avevo a disposizione i sapling li tengo perché non si sa mai. Fra, devi... Ok, metti in posizione fatti guardare da me. Amico! Ti sto guardando. Guardami. Lo so che c'è l'albero di mezzo. Dove va? Scemo di guerra. Dai, che pirla. Dove si è cacciato mo? Dei ficherti... Ma la smetti di prendermi per il culo? Bravo. Oh! Sì! Era esattamente quello che speravo accadesse. Cazzo, avessi avuto della gravel in mano. Sarebbe stato perfetto. Dammi un ender pearl. Yes. Dai, almeno quello. Ok, ho rischiato la morte ma almeno ne è valsa la pena. Cazzo, la barca è stata una strategia geniale. Fermi, sentivo un ragno? Si è formato un ragno qua sotto? Sì! Dammi delle stringhe. Tua mamma, quella puttana, il quarto rag... Torniamo in cima, facciamo il nostro flint and steal, poi con la magia facciamo apparire un portale. Che dite? Ok, ora tutti insieme, mi raccomando, chiudiamo gli occhi e incrociamo le dita. E ora contando fino a tre dovrebbe apparire un portale. Uno, due, lascia un like e iscrivetevi al canale. Tre! Tadà! Avete visto come è apparso? Avete visto che gran magia? Cazzo! E ora incrociamo di nuovo le dita e speriamo che effettivamente ci sia qualcosa di decente al di là e non soltanto nè del racchelava. Vai, viecce bastardo, viecce! Tra l'altro in tutto questo non so neanche quale sia effettivamente il mio chunk, perciò... Guardami come sono antipatico senza loro sui piedi! Guardami, 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 guardami che non ho oro! Dove cazzo è finito? Oh no, è andato nel mondo normale! Ma sei diventato normale! Diventano normali passando da una dimensione all'altra? Va che carino che sei! Ah, ah, stai qui mi raccomando, fai la guardia fuori che c'è anche il brutto cattivo del sonno. No, me ne vado nel Nether. Porca puttana, ma io sono uscito dal mio chunk! Ma che schifo! Quindi il mio chunk è letteralmente questo! Bello questo Nether! Aspettate che faccio come fanno tutti gli altri youtuber! Slash locate! Eeeh, guardate quanto è comodo qua! Doppio spawner di Blaze! Questo è fantastico! Allora, il posto più conveniente per il portale in questo caso è qui! Eeeh, va che precise! Madonna, guarda quanto è perfetta per un video di Minecraft questa cosa, va bene, torniamo a noi. E ragazzi, guardate un po' che cosa incredibile siamo capitati col nostro portale proprio accanto alla fortezza! E già? Che gran botta di culo, vero? O quanti? Oh, porca merda! No, 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 e tu da dove cazzo arrivi? Mangia cazzone! Ho mezzo cuore! Ma io ho già finito il cibo, dove cazzo voglio andare qua? Ok? Due blaze uccisi, due blaze rod. Che dream drops! Beh, è un buon inizio in realtà, due, eh? Ho soltanto bisogno di più cibo, quindi fatemi tornare in base. Oh cazzo, non è il mio chunk questo stupido idiota? Ah, eccoci qua, casina. Ciao Ugo, come stai? Tutto a posto qua? Oh, ma già che ci siamo a sto punto, facciamo un'altra cosa importante. slash locate bastion e mettimi in creative e mettiamo anche lì un singolo chunk. Speriamo di intruforarci dentro senza troppi problemi. Poi mi cade qualcuno in testa e muoio, già lo so. Dobbiamo rimanere dentro questo chunk, eh? Non possiamo uscirne. Ciao amici, è vero che mi volete bene? Non tu, non tu, tu non mi vuoi bene. Aia, quanto menate! Porca troia, quanto fa male! Oh cazzo! Gino, ma dovevi dirmelo che sono così bastardi i tuoi amici? Ma allora, oh cazzo, mi sono ciulati la mia roba, e diciamo che è stato bello, vero? Il bastione è andato. Sì, non mi ci sarei dovuto avvicinare, questo è poco ma sicuro. Siamo messi anche abbastanza semi, quasi decentemente. Devo soltanto farmare come un bastardo. E il metto, facciamo la pettolina in diamante e tre, facciamo un piccone. E armati in questa maniera, torniamo, dai, facciamo almeno un altro paio di blazer. Ecco, ti ti ho visto. Vieni qua. Eh, vabbè, ovviamente è uscito. No, ci muoio di nuovo. Non ho il cibo, eh, sono uno scemo. È vero che ho perso tutto quanto il pane nel bastione. Annaggia la puttana, devo star qua e aspettare di nuovo. Mentre aspettiamo che cresca il cibo, mi è venuta in mente una cosa che potremmo fare, giusto per passare un attimino il tempo. E questa volta ha a che fare davvero con il nether, e davvero con il chunk in cui siamo spawnati. Allora, facciamoci un sacco, ma proprio un sacco, di picconi. Scendiamo fino a Y1415, che dovrebbe essere l'altezza giusta in cui trovare delle ancient debris, e vediamo se per puro sbaglio riusciamo a trovare della netherite. Orca puttana, eccola la lava. Ma è vero che io sto scavando così quando ho delle magiche scalette? Vabbè, senza far puttanate, sentite. Ecco, ecco, sono scivolato. Vabbè, senza far puttanate, sentite. Eeeh, sì, amico, porca di quell... non c'è Grazie a tutti.